Abbiamo aspettato sei mesi per questo momento, sono passate 162 partite, finalmente ci siamo a parte per due squadre, ma è il momento dei playoff 2024 e anche del classico recappone di fine stagione con il pagellone della MLB 2024. Ai microfoni Matthew Tolgaard in compagnia di... Per vari motivi, ovviamente facciamo le solite premesse prima di cominciare, noi non siamo giornalisti, siamo tifosi tendenzialmente, quindi non prendersi troppo sul serio, siamo tifosi esattamente come voi, quindi tutti i voti che daremo potremmo, come dire, avere delle smentite a riguardo, no? Però ci piace comunque parlare di baseball in tutto e per tutto, a maggior ragione in questo momento che iniziano i playoff, ma per capire, no, come siamo arrivati ai playoff, facciamo appunto la prima parte del video, che è il classico pagellone. Voti che vanno da un minimo di F a un massimo di S per, diciamo, tutte le squadre coinvolte in questa stagione della MLB, sono 30, partiamo dalla American League, ovviamente parleremo poi nella seconda parte del video dei playoff, ma appunto partiamo dalla stagione regolare, che si è conclusa per tutte le squadre, tranne un paio, ma ne parleremo. In National League, a Est, rimane in America League. American League che vede New York Yankees che hanno vinto la divisione con 94 vittorie, in seconda posizione i Baltimore Orioles che sono qualificati come wildcard in seconda posizione appunto, fuori dai playoff abbiamo i Boston Red Sox con un 50% di vittorie, i Tampa Bay Rays con 80 vittorie, 82 sconfitte e i Toronto Blue Jays, da te pronosticati come F d'ufficio a marzo, ultimi in divisione. Quindi è tempo della scure dei nostri voti, già a partire dall'American League East. Vai, vado allora. Allora, io parto da Toronto, intanto che io nella classica diretta di inizio stagione avevo detto che li avrei pronosticati come ultima squadra dell'American League East, perché sono comunque anni che dicevano Quest'anno vedrete che arriviamo ai playoff, vinciamo, facciamo, dispiamo, Guerrero MVP, Gosman, Cy Young e alla fine invece è andata, non male, malissimo. Hanno chiuso con 88 sconfitte e questa è stata una delle stagioni peggiori di Toronto comunque negli ultimi anni, perché comunque nell'American League East bene o male la competitività era rimasta alta negli ultimi anni. Quest'anno veramente si sono impegnati nel far male, quindi Toronto io partirei con una bella F, partiamo proprio a cannone. Poi sopra di loro sono arrivati i Tampa Bay Rays che come ogni anno hanno avuto un miliardo di infortuni e quindi io non mi sento di essere troppo cattivo con Tampa, quindi io gli ho dato una C di ufficio, anche perché comunque sono arrivati molto vicini al record del 50%, quindi non hanno fatto troppo male rispetto alle previsioni. Un ottimo voto invece lo do a Boston perché ha chiuso con l'81-81, 50%, sarà contento Orso che salutiamo tra l'altro. Io a Boston la pronosticavo forse come ultima della divisione insieme a Toronto se la giocavano, però quest'anno ha fatto un'ottima stagione, infatti io il mio voto gli do un bel B più a Boston perché ha flortato con la wildcard per parecchio tempo, non ci è arrivata per questione di credo scontri diretti o comunque è arrivata sempre in zona nel mischione generale dell'American League Wildcard e quindi B più per Boston. Baltimore invece gli ho dato A, gli volevo dare a più, però col fatto che poi alla lunga un po' sono calati, hanno lasciato campo agli Yankees che hanno fatto una stagione incredibile, io comunque a Baltimore gli ho dato A, Gunnar Henderson è stato per lunghi tratti uno dei due o tre favoriti all'MVP dell'American League, il monte aveva trovato abbastanza stabilità e quindi adesso Baltimore se la vedrà il playoff con un'altra squadra di cui parleremo tra poco, quindi il primo turno delle wildcard ce l'avranno ed non è mai semplice andare alle wildcard, comunque un buon record 91-71 direi che è più che sufficiente. Poi arriviamo a forse quella che è stata la miglior squadra probabilmente dell'annata, perché abbiamo i New York Yankees che hanno chiuso 94-68, Aaron Judge ha fatto un altro sport, ha fatto un altro sport, io non dico che se non prende l'American League MVP all'unanimità è uno scandalo, perché sì Soto, sì Henderson, sì quello che volete, però ha fatto una stagione veramente incredibile. Ha avuto un OPS Plus di praticamente 200 per tutta la stagione, quindi è risultato essere il doppio più bravo di un battitore normale. Dopo tra l'altro un primo mese di stagione in cui aveva fatto fatica perché andava a K molte volte, batteva poche valide e poi si è svegliato a un certo punto e ha iniziato a fare l'Aaron Judge che tutti conosciamo. Tra l'altro ha battuto il suo 300esimo fuoricampo in meno di mille partite, battendo il record precedente che non mi ricordo di chi fosse, però l'ha battuto in tipo 150 partite in meno, quindi straordinaria stagione di Aaron Judge. E hanno scoperto, gli Yankees hanno scoperto quel fenomeno di Gill, che ha fatto una stagione veramente incredibile ed è candidato al Rookie dell'Anno oltre che al Young Award, quindi A più per gli Yankees, S comunque è il massimo dei voti assolutamente. Aggiungo una cosa nel senso che il monte di lancio degli Yankees peraltro era soggetto a tanti interrogativi, perché Garrett Cole l'hanno avuto per metà stagione, hanno avuto un sacco di infortuni e hanno retto, quindi evidentemente un po' figli del farm system, un po' anche degli investimenti, hanno creato una squadra degna di questo nome che secondo me potrebbe essere da finale di Lega. Mi sbilancio tranquillamente perché di squadre così forti in American League forse ce n'è un'altra, di cui parleremo dopo, però appunto sono riuscito a creare la coppia Soto-Judge, che ripeto, Juan Soto, se non ci fosse Aaron Judge sarebbe l'NVP dell'American League senza se e senza ma. I voti mi trovano parecchio d'accordo in realtà perché sono, diciamo, appunto in linea con le prestazioni. Ha sorpreso molto Boston, quindi confermo la B+, gli Yankees li darei S per l'incontro nel monte di lancio, A per me per Baltimore in realtà, perché comunque calcola che rispetto alla scorsa stagione ne ha 20-10 di meno, quindi vuol dire che comunque sono una squadra giovane e ancora più forte. Poi ovvio, devono scattarsi ai play-off, ma appunto ne riparleremo nella seconda parte del video. Passiamo all'American League Central, in questo video dove per una volta facevo il moderatore, a differenza di qualche altra trasmissione, una American League Central che, io lo dico, si meriterebbe per le prime tre squadre una S d'ufficio, perché l'abbiamo sempre presa per il culo come la divisione più scarsa di tutta la Lega, e invece, guarda che roba, tre squadre qualificate direttamente ai play-off, che sono nell'ordine i Cleveland Guardians, anche se faccio sempre una fatica terribile a chiamarli così, vincitori di divisione, i miei Kansas City Royals, non perché li tifi, ma perché a marzo, io ho detto ragazzi, attenzione ai Kansas City Royals che hanno fatto un bel mercato, eccetera, eccetera, infatti, secondi. L'opo clinico, l'opo clinico, ragazzi, non sbaglia neanche mai. Terzi, ancora più a sorpresa, i Tigers, che non gli avrei dato un centesimo neanche perso, ma con il probabile Saiyan dell'American League e un cor di giovani che ha fatto veramente tanto bene, sono arrivati terzi in divisione con 86 vittorie e 76 sconfitte, vanno fuori dai play-off i Minnesota Twins con 82 vittorie e 80 sconfitte, e questi erano primi, praticamente, fino all'ultimo mese di stagione regolare, i Chicago White Sox passano invece alla storia come la peggiore squadra della storia, 121 sconfitte su 162. Comunque, ripeto, secondo me è una divisione con voti molto alti, White Sox a parte, ma sappiamo tutto il background che c'è stato dietro la squadra della Southside. Assolutamente sì, guarda, io partirei proprio da loro, partirei proprio dalla Southside di Chicago, si sapeva che sarebbe stata una stagione difficile, sono partiti subito male, però chiudere con 121 sconfitte, sono tantissime, sono veramente tantissime, infatti non per niente, peggio squadra della storia, record alla mano. E lo sapevano, cioè si sapeva comunque che sarebbe andata a finire così, però non avrei veramente mai pensato ad una debacle così netta, perché è veramente 41-121, ma neanche nei sogni peggiori dei White Sox, penso. Noi abbiamo appunto quello Oakland l'anno scorso, che versava in acque terribili, e Oakland ha fatto una versione dignitosa l'anno scorso, cioè, questo è pure peggio. Possiamo dire quello che ne abbiamo voglia, l'infortuno di Moncada, Imenes che ha performato male, Robert che anche lui era rotto, però, insomma, veramente fai anche fatica a chiamare la squadra, una squadra come i Chicago White Sox a mio modo di vedere. No, ma erano veramente nove persone in campo che non sapevano perché fossero lì, cioè la famosa serie, non sapevo di essere in campo. Sì, veramente non si è salvato nessuno, c'era Crochet che si è salvato la prima parte di stagione, però poi alla fine sono arrivati ultimi per distacco, e già praticamente la stagione è partita d'aprile, a maggio, già inizio giugno, già avevano capito che la stagione sarebbe finita in tragedia. Quindi F per... Non me la senti di dare un voto ai White Sox, cioè non li puoi giudicare, senza giudizio. Cioè il voto sarebbe F, parliamoci chiaro, però, cioè, fai fatica a dare un voto diverso da questo. Sì, diciamo che io ho dato F giusto per darne uno, però effettivamente si può dare anche il senza voto perché comunque è stata una stagione veramente dura per la parte sud di Chicago. Poi, passando sopra, io a Minnesota ho dato C, non peraltro perché comunque hanno chiuso con un record positivo, però si è visto che quest'anno hanno fatto la solita stagione da Minnesota, quindi buoni giocatori che hanno dato il massimo, i fratelli Naylor comunque si sono comportati bene. Il problema è che gli altri anni vincevano la divisione perché la competitività era al ribasso, quest'anno invece la competitività si è alzata a livelli esponenziali e quindi alla distanza sono usciti fuori i veri valori. Quindi Minnesota ha chiuso quarta, non va il playoff dopo aver vinto la divisione negli ultimi 3-4 anni, se non sbaglio. Io comunque la C di la data, perché il record positivo comunque è arrivato e non sono arrivati troppo indietro da Detroit, quindi C di ufficio e ci siamo. Invece alle prime tre ho dato a più, a S, fai te come vuoi, ma per diversi motivi. I Guardians o Indians, che dir si voglia, ottima stagione, sono stati una tra le squadre migliori di tutta la MLB insieme ai Yankees, ai Phillies e ai Dodgers probabilmente. Io non me l'aspettavo, mi aspettavo una buona stagione, ma non così tanto, cioè hanno chiuso a 92 vittorie, veramente clamoroso. Poi, dietro, i tuoi favoriti, Kansas City Royals, l'occhio clinico qua ha fatto tanto. Io non gli davo così tanto credito. Bobby Witt Jr. tra l'altro ha vinto il batting title, ha avuto una media battuta di 332, quindi clamoroso, tanta tanta roba, bravissimo. E comunque i Royals hanno anche un bel avvenire, perché ricordiamo che al draft hanno preso Caglianone, che per chi non lo sapesse è un two-way player stile Otani, però americano, e che in tre anni di college ha battuto tipo 76-77 fuori campo, quindi uno slugger di quelli belli belli potenti. Quindi hanno anche tanta roba anche nell'avvenire i Royals. Quindi magari quest'anno probabilmente usciranno subito, probabilmente usciranno subito ai playoff al primo turno, però occhio a Kansas City negli anni a venire perché li vedo belli belli carichi. Poi, invece, Detroit è una sorpresa incredibile, perché io non gli davo veramente un centesimo neanche io, eppure questi qui si sono qualificati ai playoff tramite wildcard, però sono tornati ai playoff dopo dieci anni, che è un'infinità di tempo. Guidati da uno Scoobel in formato incredibile, ha vinto la tripla corona per strikeout, Iarei e vittorie, 18 vittorie. Clamoroso, bravissimo. E poi in campo Riley Green, Baez ha fatto male, però comunque nel mischione ha fatto comunque la sua prestazione. Alla fine Detroit andrà al primo turno contro Baltimore, e non dico che possono dargli fastidio, però magari una partita o due possono portargli la via, e sarebbe già un ottimo inizio per gli anni a venire. Corretto, nei voti diciamo io sono più severo con i Twins, onestamente, io gli darei una D addirittura, nel senso che partivano per vincere, cioè sulla carta sapevamo che l'American League Central dovevesse una divisione facile, e questi sono fuori, cioè hanno perso dai Tigers, che sono una squadra giovane, forte, ma comunque nessuno si aspettava che la rifondazione potesse già portarle ai playoff in questo mese di, diciamo, ottobre che sta per arrivare, hanno perso da Kansas City, che invece comunque è una squadra già molto più strutturata. Vero, Kansas City aveva dei lanciatori solidissimi, Seth Lugo su tutti, Bobby Witt Jr. è esploso, ma si sapeva che Junior, Bobby Witt, ovviamente è una superstar di questo gioco, non stiamo a nascosti dietro i freddo, poteva perdere la Kansas City, Minnesota, e basta, secondo me. Ecco, finire quarti, battuti da due squadre che sulla carta sono inferiori, francamente, va a penalizzare, secondo me, quel tipo di squadra, però, appunto, parliamo con qui di una squadra che aveva un record positivo, 82-80, ripeto, in altre divisioni, in American League East, per esempio, eri terza, in American League West eri sempre terza, quindi, comunque, segno che per una volta l'American League è stata decisamente competitiva. A proposito di competizione, American League West, competizione va detto su due squadre, in realtà, perché se la giocavano Seattle e Houston, alla fine Seattle si è suicidata, sportivamente parlando, nonostante una serie aperta di quattro vittorie consecutive, otto nelle ultime dieci, per arrivare ad agguantare i playoff tramite division, e invece non ce l'hanno fatta, hanno vinto, ancora una volta, dagli Houston Astros, in prima posizione con 88 vittorie, tre partite di distacco e mezzo, ce li hanno i Seattle Mariners, tutti gli altri sono After The Music, salutiamo i campioni in carica dei Texas Rangers, che non ci hanno neanche provato, purtroppo, gli Oakland Athletics, che hanno fatto una stagione più che dignitosa, nella ultima, a quello stadio tremendo del Coliseum, prima di trasferirsi a Sacramento per tre anni, e poi a Las Vegas, ultimi, i Los Angeles Angels, per il quale io farei un distinguo, ma probabilmente anche tu hai capito, a chi mi sto riferendo in particolare. Sì, guarda, questa qua, se la divisione precedente, è quella forse in cui ho dato i voti più alti, questa è forse quella a cui ho dato i voti più bassi, nonostante Houston abbia vinto, perché comunque Houston ha faticato parecchio durante l'anno, è stata seconda, ha fatto molta fatica, è stata dietro Seattle, per molti, molti mesi, infatti io a Houston ho dato B, ha vinto di nuovo, e ci sorbiremo di nuovo gli Astros, che probabilmente arriveranno di nuovo all'American League Championship Series, perché ormai arrivano sempre, e quindi io ho dato B a Houston, quindi un voto buono, ma non buonissimo, io ho dato D a Seattle, perché comunque veramente si sono suicidati, io non capisco che cavolo sia successo in quel di Seattle, erano primi con 4, 5, 6 partite di vantaggio, si sono completamente suicidati, io non capisco che cosa sia successo, invece i buoni Texas Rangers ci salutano, e sì, non ce l'hanno neanche provato sinceramente, io mi aspettavo che, non è che dominassero la divisione, perché non l'hanno mai fatto negli ultimi anni, anche l'anno scorso si sono qualificati, comunque non hanno vinto la divisione, quest'anno il record di 78-84 è un po' deludente, quindi ho dato D anche a Texas, potevo azzardare anche una F volendo, perché comunque non ci hanno veramente neanche provato, Oakland tu mi riderai dietro, però Oakland è la squadra a cui ho dato il voto più alto in tutta la division, perché io ho dato B+, perché comunque ha fatto un'ottima stagione, si è portata a casa 69 partite, rispetto a 3 anni fa che se ne erano portate a casa forse 40, neanche 40, quasi vincerne 70 e è tanta roba, sono finiti a praticamente 9 partite dai campioni in carica, il che è tanta roba, poi devo dire nell'ultima partita mi è scesa un po' la lacrimuccia, perché vedere il Coliseum, che è stata la casa degli Ace per tantissimi anni, e vederlo finalmente pieno, a capienza piena, e salutare i giocatori che comunque sono stati tanti anni a Oakland, e hanno vissuto annate buone, annate meno buone come queste ultime, un po' mi ha colpito, mi ha colpito, quindi dall'anno prossimo questi Sacramento Athletics, o come si chiameranno, sostituiranno gli Oakland Athletics, e Oakland tra l'altro è una città, che ha perso tantissimo a livello sportivo, adesso aprendo anche parentesi in NFL e in NBA, sappiamo che prima in NFL c'erano gli attuali Las Vegas Raiders erano ad Oakland, mentre i Golden State Warriors erano ad Oakland, adesso si sono trasferiti a San Francisco, quindi Oakland ha perso tanto dal punto di vista sportivo, e c'è da capirlo anche perché il Coliseum è stato per anni lo stadio peggiore, probabilmente in tutta la MLB, mentre per i nostri, direi, Los Angeles Angels, salviamo due giocatori, uno è il buon Trout, che ovviamente si è infortunato ogni anno, quindi io direi torna in voga l'hashtag Free Trout, perché è poverino, io non ce la faccio più a vederlo, che non riesce ad arrivare neanche, ma neanche vicino al playoff, poi dici neanche se la lotta, una wildcard, no, non ci arriva proprio, ultimo per distacco dietro gli Athletics, e poi salviamo il nostro Samuel Aldegheri, ciao Samu, è grandissimo, ha fatto due partite purtroppo, poi si è infortunato, però sono due partite che lasciano ben sperare, io spero che l'anno prossimo entri comunque nella rotazione degli Angels, tanto peggio di così non può andare, quindi a sto punto io investirei su di lui, che comunque è tanto giovane, ha fatto un doppio salto dalla doppia A, quindi ha saltato la tripla A, è andato direttamente in MLB, quindi assolutamente gli va detto anche grazie, perché ha scritto una pagina importantissima del nostro baseball. Ritornando al discorso, diciamo degli Los Angeles Angels, io faccio appunto un distinguo, vabbè la F d'ufficio, gli Angels se la meritano tutta, perché hanno perso pure da ora, sono letteralmente una cozzaglia di giovani, che non si sa quale futuro abbiano da qua, i prossimi tre anni, quando appunto si andrà a Las Vegas, nel frattempo saremo a parlare dei Sacramento Athletics, che giocheranno nello stadio dei Sacramento Rivercats, Aldegheri invece diciamo ha giocato tre partite, ne ha vinta una, ne ha perse due, però attenzione che ha giocato contro gli Houston Astros, i Texas Rangers e si atto il Magnus, cioè non è che ha giocato proprio con delle squadrette da tre lire, l'American League West, insomma nelle prime posizioni era piuttosto competitiva, ha vinto contro i Texas Rangers, i campioni in carica, è una bella B più di incoraggiamento, secondo me, per il lanciatore di Verona, che probabilmente sarà invitato nello sprint training, ce l'auguriamo quantomeno, per quanto riguarda il roster allargato dei 40, noi parliamo, ricordiamo per chi non lo sapesse, del primo lanciatore della storia della Major League Baseball, italiano cresciuto anche in Italia, perché appunto Aldegheri è nato a Verona, è cresciuto a San Martino Bonalbergo, ha giocato anche nel Parma Baseball, e io che sono di Parma, non posso che apprezzare questa cosa, ed è andato direttamente in Major League, abbiamo avuto anche altri italiani, ovviamente nella Major League Baseball, ma hanno tutti passaporto americano, esempio sui Chicago White Sox, Dominic Fletcher e Niki Lopez, che hanno fatto comunque bene all'ultimo mondiale con la nazionale italiana, ma qua parliamo proprio di un giocatore italiano in tutto e per tutto. Sono d'accordo col voto a Oakland, alto in realtà non è che rido, perché comunque i voti sono correlati alla potenzialità della squadra, cioè per me, così come Kansas City e Detroit sono da S, ci sta che Oakland sia da B più, assolutamente sì. Texas D perché hanno abdicato malissimo, D a Seattle, Houston gli diamo una B più d'ufficio, perché hanno vinto ma hanno fatto i soliti Houston Astros, cioè hanno sonnecchiato i primi tre mesi, poi si sono svegliati e hanno iniziato a giocare, nonostante abbiano tagliato Jose Abreu, avevano dei problemi sul Montrilancio, di tutto e di più, quindi è veramente qualcosa di tremendo. Intanto noi cambiamo schermata, ci trasferiamo dalla American National League e qui abbiamo una divisione che colpo di scena non è ancora finita, perché la squadra che vedete in questo momento diciamo che ha ancora uno sconto diretto tra la seconda e la terza, o meglio, tra le due seconde ex equo. Di sicuro sappiamo che i Philadelphia Phillies, seconda miglior squadra della Lega dopo l'Eseggio del Dodger, sono meritatamente qualificati come vincitrici di division 95 vittorie. Al momento sarebbero qualificate sia gli Atlanta Braves, sia i New York Mets, ma al momento, poi spiegheremo perché. Fuori invece con 71 vittorie i Washington Nationals, che hanno fatto i Washington Nationals, e i Miami Marlins, che hanno fatto i Miami Marlins, hanno ceduto a Rice a marzo, stagioni a sud, peraltro notizia recente che nonostante le quattro vittorie consecutive, sei nelle ultime dieci, Skip Schumacher, l'allenatore dei Marlins, si è esonerato e quindi non sarà più ad allenare la formazione che gioca all'Hondi Bot Park. Per il resto sono voti canonici. Diciamo che io formalmente, e qua parto un attimo di per primo in quanto tifoso dei Mets, quindi titolare di division, S per Philadelphia, perché ragazzi, questi qui sono forti, tutti gli anni hanno battuto, strabattuto, quello che resta di Atlanta Braves, dal punto di vista degli infortuni, perché i Braves ogni mese ne si infortunava uno, invece Philadelphia Philadelphia martellava continuamente, ha fatto una grandissima stagione, per me Philadelphia è da essere una brutta vega per i playoff, quindi attenzione ai Phillies, i Braves li diamo, comunque vada una A-, perché comunque erano primi in divisione, hanno retto finché hanno potuto, e senza Strider, e senza Ronald Acuna Junior, insomma, non ha fatto una bruttissima stagione. Comunque vada i miei Mets, il do una A, sono tifoso, lo dico senza particolari problemi, ma io avevo detto, all'inizio della stagione a marzo, Doc ti ricorderai sicuramente, che i Mets erano pronosticati per arrivare quarti, in questa divisione, se arrivano terzi, fanno già un successone, perché non hanno speso tantissimo, hanno fatto un mix tra giovani e grandi veterani, che in realtà sono le superstar della squadra, e con un mese, diciamo, da luglio in poi, clamoroso, sono lì per giocarsela ai playoff. Ora, lo sconto diretto sarà, stanotte, con un double header, tra Atlanta Braves e New York Mets, non si è giocato, le settimane scorse, per via di un uragano, che ha invaso la Georgia, e quindi, abbiamo una partita in più, una mini serie in più, che avrà dei risvolti interessanti, ma poi, insomma, grazie anche a Mate, Orso, di media battuta, che ci ha fatto il mega tabellone, capiremo che cazzo di dire sta succedendo in questa serie, in questa divisione, e nei playoff, però per il resto, invece, i voti sono canonici, quindi, di d'ufficio a Nationals e Marlins, è il mio modo di vedere. Ci sta. Allora, partiamo da Philadelphia, che è stata probabilmente, pound for pound, è stata la miglior squadra, di tutta la MLB, se la gioca forse con gli Yankees, sicuramente della National League, anche sopra i Dodgers, sono stati devastanti, tra l'altro, li ho visti dal vivo, ho avuto la fortuna, di essere presente alla London Series, a vedere una partita, con i tuoi Mets, tra l'altro, doppia partita, e anche dal vivo, sono veramente, qualcosa di illegale, Harper, è qualcosa di illegale, ho visto il fuoricampo, di gara 1, andate a rivederve, la London Series, perché sono state, due partite, veramente clamorose, quindi S, A più, tutto quello che volete, per Philadelphia, e occhio, perché questi, spingono parecchio, spingono parecchio, dalla parte del tabellone, poi, secondi, sono arrivati, i Braves, in qualche modo, tutti incerottati, tutti sfasciati, tutti un po', un po' su quelle stampelle, sono arrivati un po' così, però, io do B ad Atlanta, perché comunque, nonostante tutti questi infortuni, hanno perso Strider, hanno perso Ronald, Cugna Junior, che forse sono i giocatori, più importanti, di ogni reparto, quindi, il Monte di Lancio, e diciamo Campo, sono i giocatori, più importanti, di Atlanta, e comunque, sono arrivati i secondi, e, stasera, si giocano tutto, praticamente, con i New York Mets, a cui ho dato, una bella A, piena, perché anche loro, si sono ripresi, dopo un periodo, un po' così, e, da giugno, luglio in poi, hanno veramente, messo la quinta, hanno fatto, veramente, una stagione, incredibile, tra le migliori, forse, dopo lo Star Break, e, questa sera, si giocheranno, tanto, perché, ricordiamo appunto, che mancano, questa, questa, mini sede, da due partite, per appunto, un uragano, che è successo, che è passato in Georgia, qualche settimana fa, e quindi, da quanto capito, se vince una, e, se vince una, passa, la vincente, più Arizona, che, che è la terza squadra, in gioco, per le wildcard, se una squadra, vince entrambe le partite, passano, entrambe le partite, adesso non mi ricordo, potrei aver detto, una cavolata, allora, diciamo così, se, Atlanta, e New York, splittano la serie, passano entrambe, esatto, passano entrambe, 2 a 0, nella serie, ovviamente, New York, o 2 a 0, nella serie, Atlanta, ne beneficia Arizona, che comunque, ha fatto una discreta stagione, al netto che sta rischiando, di uscire nel modo, più inaspettato possibile, immaginabile, anche perché, la penultima partita, prima di questa, l'hanno persa, e anche in modo, orrendo, e non dovevano perderla, onestamente. Sì, esatto, comunque, ho avuto un lapsus, non mi ricordavo, comunque, New York Mets, ho detto A, poi Washington, io direi una bella C, anche C+, perché comunque, hanno fatto, una buonissima stagione, stanno mettendo su una squadra interessante, a partire da CJ Abrams, che comunque, tra un po' di anni, potrebbe lottare, anche per l'MP, secondo me. Miami, è stata, è stata, una delle peggiori squadre, di tutta la Lega, e, questa Doc, l'hai sbagliata, perché tu avevi pronosticato, i Marlins, come sorpresa, quindi, quest'anno, hai preso tutto, tranne questa, però ci sta, e, 6200, aveva detto, che anche qui, hanno perso, il loro miglior giocatore, perché a Reiss, è andato via, dopo, dopo un mese e mezzo, di stagione, e, giocatore, Siamo, A+, a Philadelphia, B ad Atlanta, A New York, C a Washington, F a Miami, secondo me. Siamo alla National League Central, dove, tanto per cambiare, si è rivelata, ancora una volta, la meno competitiva, dell'otto, nel senso che, ne passa soltanto una, e, strano, sono i Milwaukee Brewers, 93 vittorie, 69 sconfitte, non succede mai, che i Milwaukee Brewers, arrivi nei playoff, posso essere onesto, sembra che sia stata, la divisione più deludente, nel senso che, fino a, All Star Game, appena dopo, c'erano 3-4 squadre, in lotta anche per la wild card, poi a un certo punto, sono tutti implosi, da Milwaukee in giù, un macello, rip per i Cubs, che non ce l'hanno fatta, neanche quest'anno, ma, sto giro, erano fuori, in realtà, da molto prima, l'anno scorso, in realtà, il rosicamento per i Cubs, dai massimi livelli, per il resto, sono voti abbastanza anonimi, secondo me, nel senso che, io direi, ai primi in classifica, appunto, Milwaukee, una B più d'ufficio, nel senso che, dovevano vincere, hanno vinto, e li aspettiamo ai playoff, al netto che, comunque, hanno perso Christian Jelic, per la stagione, sono una bellissima squadra, si vede il lavoro di Craig Council, che è stato fatto, fino a quest'anno, adesso c'è, il vice di Council, in panchina, e, il metodo di gioco, si è visto, Council è andato ai Cubs, che però sono fuori, 83 vittorie, 79 sconfitte, stesso record, dei Cardinals, al quale, francamente, io darei, una C d'ufficio, nel senso che, hanno fatto comunque, una discreta stagione, i Cubs, secondo me, potevano puntare a qualcosa in più, perché nel tanking, nel processo di rifondazione, sono un po' più in alto, D d'ufficio, ai Reds, ai Pirates, che sono ancora troppo giovani, per poter sperare, di qualcosa in più. Sì, mi trovo abbastanza d'accordo, io, è stata, una divisione, a cui ho dato voti, abbastanza monotoni, io ho dato, A a Milwaukee, e poi, a Chicago, C+, a San Luis, C-, C-, Cincinnati C, e Pittsburgh C+, quindi, più o meno, siamo lì. Sì, Milwaukee, ormai, è abbonata, come i Dodgers, che vincono, in National League West, parte la stagione, titolo divisionale, subito, dovrebbero darglielo d'ufficio, comunque, A per Milwaukee, che si scontrerà, le Wild Card, adesso, vediamo come, come andranno questo primo turno, Chicago, sì, poteva fare di più, sinceramente, hanno trovato in Imanaga, il loro nuovo lanciatore di riferimento sul monte, Swanson, Swanson e Bellinger, comunque, le figure ci sono a Chicago, quindi, magari, ancora un anno o due, di non tanking, però, retooling, come dicono, dall'altra parte, potrebbero arrivare, comunque, un po' più in alto, e arrivare a giocarsi, una, diciamo, almeno una Wild Card, arrivare un po' nel lotto delle Wild Card, poi, St. Louis, C-, hanno fatto una stagione, un po' così, così, niente di, di troppo eccezionale, e poi, Cincinnati C, stessa cosa, stagione anonima, mentre Pittsburgh ho dato C-Più, perché, comunque, sono stati abbastanza competitivi, per una buona parte di stagione, hanno Neil Cruz, hanno probabilmente, il rookie dell'anno, Paul Skins, almeno per la National League, perché ha fatto, veramente, una stagione, clamorosa, da questo, da rookie, Paul Skins, secondo me, sarà una delle superstar, di questo gioco, è uno che, lo spero, ha fatto la trafila delle Minors, in un anno solo, è arrivato, in Major League, pronti via, partente all'Oster Game, cioè, non è uno degli ultimi arrivati, cioè, o meglio, non è dal punto di vista, ma grafico, ma, dalla carriera che ha avuto, è un talento generazionale, in modo di vedere. Sì, 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 è un 2003, ricordiamolo, che è comunque, ha 21 anni, è veramente giovanissimo, è stato scelto, prima al draft, nel 2023, quindi questo, nel giro di, 11 mesi, alla fine, neanche un anno, è arrivato, è arrivato a fare, il partente all'Oster Game, quindi, veramente, è qualcosa di clamoroso, tra l'altro, ha una potenza, nei lanci clamorose, lui è molto grosso, è molto alto, cioè, è alto quasi due metri, quindi, imprime una forza clamorosa, nei lanci, e secondo me, diventerà una delle star, di questo gioco, lo spero, perché comunque, vederlo giocare, mi è piaciuto tanto, quest'anno, mi è piaciuto veramente tanto, e quindi, e quindi, Pittsburgh, c'è più, Arizona, se non rimane col cerino in mano, è dentro ai playoff, con 89 vittorie, se tante sconfitte, ma comunque, buona stagione, in modo di rivedere, fuori da tutto, San Francisco e Colorado, 80 vittorie per gli arancioneri, e invece, per i violaneri, 61 vittorie, ma per loro, ce la si poteva anche aspettare, esatto, qua, partiamo dalla mia fantastica squadra, che sono i Los Angeles Dodgers, per chi non lo sapesse, infatti, porto la maglia di, un giocatorino, scarsino, no, che ha appena fatto la storia, battendo 50 e 50, ovviamente, sto parlando di, un giocatore lì, esatto, vabbè, diciamo che, io ho dato A, ma, è il minimo sindacabile, secondo me, per quello che, che sono le ambizioni di Los Angeles, perché comunque, quando metti su una squadra così, che può contare su Yamamoto, che era conteso da tutte le mesi, il big arrivava dal Giappone, e poi, quando prendi Otani, con quel contratto lì, poi hai Freddy Freeman in prima base, Mookie Betts in seconda, hai Max Mons in terza, cioè, Migiro, Migiro, come lo chiamano, Miguel Rojas in interbase, cioè, devi fare bene, sei obbligato a fare bene, quindi, adesso arriva la parte tosta, perché, come, dissi io, in una diretta dell'anno scorso, tre cose sono certe nella vita, le tasse e la morte, i Dodgers che fanno cagare nei playoff MLB, quindi, io spero di essere smentito, e, sì, hanno vinto la division, per la tipo undicesima volta in dodici anni, l'ultima volta che hanno perso è stata nel 2021, quando vissero i Giants, mettendo insieme 107 vittorie, non so neanche come, e poi questi San Francisco Giants, quest'anno sono arrivati i quarti, con praticamente 50 vittorie in meno, 40 vittorie in meno, e, infatti, io, a San Francisco, ho dato D, Colorado ho dato C, d'ufficio, perché dovevano essere lì, Arizona, io gli ho dato B meno, ma in sospeso, nel senso che, sto aspettando, di vedere se si qualificano ai playoff, o no, se si dovessero qualificare, io confermo la B, se non si dovessero qualificare, il mio voto scende a C, perché comunque, come hai detto, hanno perso una partita sanguinosa, che poteva farli volare verso i playoff, invece hanno perso, e adesso devono stargli a sperare, e non è il massimo, non sempre ti va bene, mentre San Diego, finalmente, appunto, io ho dato B più a San Diego, perché si sono qualificati, finalmente, dopo anni di fallimenti, e hanno preso, anche lì, un altro giocatore bravino, no, che ha battuto, ha battuto, non so, più di 300, ha fatto 0k, per tipo due mesi, no, ma Miami è questo, fino a maggio, esatto, no, sto parlando ovviamente, di Luis Arraes, che ha fatto una stagione clamorosa, per due mesi, non ha preso uno strikeout, cioè, forse, a livello moderno, è uno dei migliori, contact hitter, che ci sono, forse Ichiro era così, guarda, un po' sulla sciadizia, se mi permetti di intervenire, ha vinto, per la terza volta consecutiva, il titolo di miglior battitore, ed è stato il primo giocatore della storia, a farlo con tre squadre diverse, perché l'aveva fatto, con i Queens, l'ha fatto con i Marlins, l'ha fatto con i Pappes, poi ricordiamo appunto, che non si sente neanche, nei grandi nomi, perché tutti pensano, no, giustamente, Otani, Giad, Soto, eccetera, eccetera, ma Arraes, ragazzi, cioè, è uno di questi, che ci può stare al tavolo, eh, ragazzi, niente da dire. E l'unica cosa, che batte pochi fuori campo, batte poche valide, corpose, però, cosa lì vuoi dire? Tra l'altro, dicevo prima, che è anche, forse l'unico giocatore, o uno dei pochi, adesso non mi viene in mente, che ha avvento il batte in title, in entrambe le leghe, quindi in American League, in National League, quindi già, stiamo parlando veramente, di un giocatore, unico nel suo genere, che, è rimasto un po' ancorato al gioco, di una volta, perché adesso si va molto per, per i fuori campo, per le palle lunghe, questo genere di gioco, lui invece è rimasto molto fedele, a palla a terra e correre, cioè, veramente, un metodo un po' ancestrale, del baseball, però, comunque che ripaga, anche nel 2024. Detto questo, passiamo alla schermata, che adesso ci interessa di più, nel senso che, in American League, la stagione è finita, in National League, ancora no, domani, in uno shortino, vedremo chi si sarà qualificato, nelle partite di questa notte, ma, almeno in American League, possiamo già fare, una sorta di tabellone completo, lo faremo anche in National League, prendendo in considerazione, però, entrambe le squadre, per essere proprio corretti. Qui, è il momento, di spiegare, a chi dovesse essere nuovo, e guardasse mai, questo video, e anche le prossime trasmissioni, che faremo anche su altre piattaforme, nel mese di ottobre, come funzionano i playoff? Come vedete, ci sono tre squadre, qualificate automaticamente, che sono quelle vincitrici di divisione, che, per l'American League, sono, i New York Yankees, i Cleveland Guardians, e gli Houston Astros, le migliori due, quindi, New York, e Cleveland, sono automaticamente, qualificate, alle division series, e passano un turno, invece, Houston, Baltimore, Kansas City, e Detroit, andranno a fare, il primo turno, che, per fortuna, l'hanno aumentato, al meglio delle tre partite, fino a due anni fa, c'era la parità della morte, una partita sola, chi perdeva, era a casa, chi andava avanti, era ovviamente, chi vinceva, il tabellone prevede che, la peggiore vincitrice di divisione, quindi, per l'American League, Houston, affronti, la sesta qualificata, ai playoff, quindi, la terza wild card, quindi, i Detroit Tigers, mentre, le altre due wild card, Baltimore, e Kansas City, si sfideranno, in un'altra wild card series, almeno delle tre partite, sono, diciamo, per queste wild card series, secondo me, dei pronostici, molto tirati, almeno per una serie delle due, a mio modo di vedere. Sì, sono delle serie, un po' rognose, da pianificare, da pronosticare, comunque, guarda, Detroit, contro Baltimore, io, azzarderei, azzarderei, una gara tre, quindi, io, la vedo andare, subito alla terza, con Baltimore, che passa due a uno, e va contro, New York, mentre, dall'altra parte, tra Houston, e Kansas City, non me ne vogliano i Royals, però io vedo uno sweep, da parte di, Tiger, sì, sì, scusa, volevo dire, vedo uno sweep, vedo uno sweep, a favore di Houston. Potrebbe essere, nel senso che, alla fine Detroit, è una squadra giovane, che è arrivata, comunque bene, a questi playoff, difficile, che ne possa vincere una, però, già esserci, comunque, è molto interessante, sono d'accordo, anche io, va detto, per quanto riguarda, una serie, diciamo, al meglio delle tre, quindi, completa, tra Baltimore, e i Royals, va detto, che, secondo me, la partita di Burr, partente per gli Orioles, la diamo a lui, quindi a Baltimore, se Seth Lugo, non è invece, appaiato a Burr, allora, potrebbe capitare, che i Royals, ne vincano una, poi, sulla carta, l'attacco di Baltimore, è superiore, però, i Kansas City Royals, hanno Bobby Wheat, hanno Salvador Perez, che è sempre quello, del 2014-15, è sempre lui, 40 anni, però, ci facciamo veramente, sfracelli, è una serie, più equilibrata, del previsto, attenzione, perché i Royals, hanno Will Smith, il talismano, vabbè, è un po' come Padoin, un po' come Simone Padoin, sì, Baltimore, la vedo vincente, 2-1, e Houston, è vincente 2-0, esatto, da questa parte, invece, passiamo, alla National League, che, hanno, di fatto, come dicevamo, in apertura, della presentazione, della National League East, quattro squadre, sicuramente qualificate, mancano la quinta e la sesta, che, appunto, dipendono, da cosa faranno, Atlanta e New York, in questa serie, di stasera, comunque, i Los Angeles Dodgers, e i Philadelphia Phillies, seguendo il ragionamento, di qui sopra, sono qualificate, automaticamente, alle Division Series, quindi, per chi non lo sapesse, le serie, almeno delle 5 partite, mentre, sicuramente, Milwaukee, va alle Wild Card Series, come peggiore, vincitrice di Division, non sappiamo, però, chi sarà, l'avversario, nel senso che, appunto, come vedete anche, dall'immagine, copertina di questo video, il tabellone è vuoto, no, l'abbiamo già spiegato prima, ripetiamo un attimo, magari, Doc, chi dovrebbe affrontare, Milwaukee, e San Diego, in base a come finisce, la serie, tra Atlanta e New York, di questa sera? Dipende da, dipende da chi vince, dipende da chi vince, comunque, credo che, non so, chi è che si qualifica quinta, se vince, fammi fare due calcoli, se vince New York, passa New York, e Arizona. I Mets hanno, diciamo, il vantaggio dei scontri diretti, con Arizona, in ogni caso, finissero tutte e tre pari, quindi, sarebbero sesti, da quel che si è capito, quindi, i punti, San Diego, contro Atlanta, e Milwaukee contro Mets, se, splittano, eh, è da vedere, è da vedere, comunque, cambia in base un po', a come va questa notte, quindi, sarà un po', difficile fare dei pronostici, no? Quindi, sarà, tu hai la nostra fantasia, no? No, è un po', vattela pesca qua, comunque, sì, se passasse Atlanta, io vedo Atlanta, comunque, come favorita, per il primo turno, e, contro San Diego, sì, secondo me, due a uno, se la porta a casa, contro, anche Atlanta, comunque, è andata molto profonda, negli ultimi playoff, quindi, non vedo, non la vedrei, come una sorpresa incredibile, un passaggio di Atlanta, andrebbe contro i Dodgers, ovviamente, come non è mai successo, no, esatto, mentre, dall'altra parte, eh, dipende chi viene fuori, dipende chi viene fuori, se viene fuori, Arizona, secondo me, Milwaukee la batte anche, e, dipende, con New York è tiratissima, io non so, non so, veramente, dove andare a mettere le mani, in questo, di, in questo turno. Veramente complicato, nel senso che, eh, splittassero davvero le vittorie di questa serie, quindi, eh, nella miniserie da due, Atlanta e New York ne vincono una, a testa, secondo me, entrambe le squadre potrebbero essere classificate come squadra del destino 2024, perché ci arrivano in un modo, che è inspiegabile, sostanzialmente, a meno che tu non sia veramente amato di questo sport, anche Arizona in realtà potrebbe beneficiare dello status mentale di qualificarsi in qualche modo e avere questa adrenalina, come l'anno scorso, no? Dopotutto che ci erano arrivati anche lì un pochino all'ultimo con una squadra giovane, non lo so, da tifoso dei Mets mi auguro che si arrivi ai playoff, anche in una maniera non così meritata, al netto che comunque per la seconda parte della stagione l'avremmo anche meritata, ma per la prima assolutamente no, però, i giochi, lo sappiamo, si fanno dallo star game in avanti, eh, io mi auguro che la serie venga splittata e così i Mets vanno ai playoff, dovesse arrivare all'Arizona, li guardo con molta attenzione perché secondo me potranno fare bene, anche se dovessero avere il derby con San Diego, è una serie almeno delle tre partite, ma San Diego vedo meglio con Arizona che con i Mets, secondo me, quindi mettiamola così, io, in realtà è un ragionamento che avrebbe riformulato, nel senso che la sesta qualificata affronterebbe i Brewers, e onestamente i Mets contro i Brewers, calcolando che l'ultima serie l'hanno fatta proprio queste due squadre, i Mets l'hanno vinta, attenzione, la butto lì, la butto lì, San Diego-Atlanta dovesse qualificarsi in questo modo, vedo meglio San Diego, do l'upset, sono onesto, anche se Atlanta non dovrebbe essere un upset così tanto clamoroso, non lo so, è veramente un macello, Arizona se si qualifica, secondo me, non dico va fino in fondo, ma potrebbe avere quel rush finale che ha avuto l'anno scorso, che ci ha fatto tanto divertire, mi auguro di rivederlo, però vorrei rivedere anche i Mets quinte e gli Arizona Diamondback 60, ecco, però anche lì, se i Mets vincono tutti e due, vanno quinte, affrontano San Diego, boh, è difficile fare pronosti ragazzi, spero ci sia un ragionamento molto contorto, vedremo domani cosa succederà. Quest'anno è un disastro, comunque ti posso dire che di tutte le wild card, secondo me finiscono tutto e due a uno, tranne quella di Houston e Detroit. Potrebbe essere, secondo me, qualunque quadra, le wild card finiscono la notte del 3 sul 4, andando probabilmente partendo da la notte tra domani e mercoledì, per noi italiani. esatto. Quindi, vogliamo già dare l'appuntamento nel caso per le prossime trasmissioni? Assolutamente sì, intanto ci stiamo organizzando io con il buon Thorgard e anche Orso e Puma Zeta, per fare il classico direttone di fine stagione, e purtroppo per impegni nostri, personali, oggi siamo un po' a mezzo servizio, però non vi preoccupate perché in settimana torneremo con una nuova diretta, con la classica diretta di pronostico della Possession MLB. e della Recruiteria. Anche quella delle World Series, che quella è quella che ci piace veramente di più, perché arriva in fondo, è lì, largo alla fantasia. Guarda, quest'anno non so veramente dove andare a mettere le mani nei pronostici, perché quest'anno le squadre forti sono state troppo più forti, e quindi non so veramente dove andare a mettere le mani, perché qua, delle quattro qualificate che hanno il buy al primo turno, potrebbero arrivare tutte e quattro alle World Series tranquillamente. Io aspetto che si completi il tabellone, del primo turno, se no così è veramente complicato, veramente tanto. Vedremo stanotte cosa succede. Quindi comunque con il doc ci ritroviamo, ricordiamolo, su Instagram, MLB.andrescoreItalia, dove io collaboro, lui è l'admin, trovate tutti i link necessari in descrizione, non solo, diretta verosimilmente o venerdì o sabato mattina, orario di pranzo, vediamo un attimo come incastrarla. Per quanto riguarda invece il mio canale, ci sarà l'appuntamento ad ogni fine turno, compatibilmente con i miei impegni di sport e di lavoro onestamente, però anche qui vi porteremo in fondo fino alle World Series come sempre, e in più l'ho scritto anche in un post dedicato, ci sarà anche il ritorno della Zero to Hero Challenge, mi autospammo per il post, nel senso che a fine World Series, la settimana dopo, inizierà la serie che cercherà di riportare la squadra peggiore della Lega in auge, ma ci metteremo due anni, speriamo. Sarà veramente un parto quella serie, però siccome la prima è piaciuta con i Rockies, rifacciamo anche quest'anno con i Chicago White Sox di Nicky Lopez e Dominic Fletcher, per rimanere in casa Italia. Detto questo, Andre grazie per essere intervenuto in questa trasmissione. Grazie a te Teo, a ultimo momento spam al volo, vi consiglio di seguire anche le nostre altre pagine Instagram, abbiamo io e il buon Thorgard insieme a Orso e Max che salutiamo, scriviamo anche di hockey su ghiaccio, tra poco ripartiamo anche con la stagione regolare di hockey, quindi veniteci a seguire su Face Off Italia. Il link è sotto qui in descrizione, stiamo facendo una sorta di divulgazione della storia delle franchigie, siamo arrivati agli San Cose Sharks, siamo veramente in fondo, il Face Off è previsto per il 9 ottobre, quindi noi saremo in piedi con le World Series, ma Max che è bolzanino, è fissato con l'hockey, è molto più appassionato e competente di noi, ci darà una mano con i contenuti, insomma anche lì tanta roba, in più c'è un'altra pagina che dovresti spammare, sempre di Instagram. Esatto, da poco ho ribrendizzato una pagina che avevo creato con un altro scopo, ma l'ho ribrendizzata e l'ho dedicata al football americano, si chiama Blitz Nation Italia, venitemi a seguire anche lì, posto top e flop, top di giornata, preview delle partite, azioni, scrivo pezzi, un po' di tutto, misto griglia, e quindi venitemi a seguire anche lì. Noi ci vediamo sicuramente in questa settimana con i contenuti a tema baseball, dopo tutto il mese di ottobre è il più bello per noi appassionati di questo sport, il saluto da parte di Menti Torgaard.